Non c'è mai stato un momento migliore per guardare al futuro, per cogliere nuove opportunità nel luogo che anticipa i tempi. Una città ricca di opportunità dove trovare una fucina di idee, un biglietto per l'avventura e un accesso diretto alla Greater Bay Area, alla Cina e al resto del mondo. Una vita ricca non solo di idee, ma anche di cultura, tradizione culinaria e avventura. Liberare il proprio potenziale, scalare nuove vette, aspirare a nuovi traguardi. Esploriamo insieme le nuove frontiere del fintech, della biotecnologia e della robotica. Diamo il benvenuto ai sognatori, ai creatori di start-up e agli innovatori in un business hub internazionale connesso e dinamico. Benvenuti a Hong Kong, dove vi attende un mondo di opportunità.